buonasera a tutti sono luigi honorac superiore dopo il nostro battle versione jump con finalmente finalmente con la chiusura con la chiusura del nostro fantastico mezzo mese di genio chiusura settimo anniversario oggi analizzeremo i due rr che sono degli ottimi rs del salmon intanto qua la roba dato che ci ho aperto scrubs per dopo rompe le scatole ma vabbè e torniamo a noi iniziamo da gise barter int abbiamo 15.074 hp 9400 d'attacco e 6.990 di difesa leader space traveling warriors tre chi è 130% già questo fa di loro unità abbastanza interessante anche se ormai ci sono molteplici possibilità di fare un team space traveling warriors proprio chi inizia è già un qualcosa passiva attacco e difesa 150% medie chance stiamo parlando quindi di un 30% di lanciare una special in più 10% attacco e difesa per ogni attacco che fanno fino al 50% alte chance quindi un 50% di evadere gli attacchi più buff di 3 chi è 30% attacco e difesa a tutti i space traveling warrior e ulteriore buff di 30% attacco e difesa se nel team abbiamo un ginio nello stesso turno questo permette al pg di arrivare a un devastante 365 per cento di stas nel momento in cui fa i cinque attacchi e avete un ginio nel turno tanta tanta roba sotto il 60 per cento a difesa trovate sicuro il miglior buffer per ginio force funzionano davvero davvero bene sono belli completi nella loro utilità è naturale che non si fermano a essere giocati solamente in ginio force possono essere abusati anche in planet max saga anche in space traveling in cui con ginio riescono a dare un 60 per cento di base sono tra le migliori unit possibili da affiancare al nostro capitano davvero buoni hanno inoltre attacco di difesa aumentato nella special quindi anche questo un valore aggiunto da non sottovalutare e possono essere utilizzati abbastanza bene hanno bisogno di abiliti ragazzi abiliti che verrà data prevalentemente in critico a mio avviso rivalendo poi nell'addition e hanno un loro gioco link freeze army, freeze a minion, ginio force, tag team of terror, signature puzzle, loyalty fierce battle gioco di namek saga, ginio force, seekers, journey of force, terify conquerors, special pose, space travel warriors di base se giocate ginio a gl ragazzi giocherete di sicuro anche loro davvero una ottima unit che permette di essere giocata in più e più possibilità promossa non dico a pieni voti perché comunque il pieno voto sarebbe stato se fossero stati un pochino più buoni ad ability free non che non lo sia ma è per carità per carità raggiungono ottimi valori anche ad ability free semplicemente avrei voluto un pochino più di sustain nel danno qualcosa di più alto del 1.800.200.200 però si e chiede tanto lo sono il buffer e lo fanno più che bene seconda unit che anch'esso sono stati da provare per fortuna sono ricom e guldo loro messi assieme perché dovevano andare assieme str 10.966 hp 9.197 attacco e 9.301 di difesa leader planet max saga con 3 ki e 130 per cento stars come potete vedere sono tutti ottimi leader per ginio force abbiamo attacco di difesa 180 per cento 10 per cento attacco di difesa per ogni attacco subito sono quindi personaggi molto interessanti a giocare in prima posizione abbiamo un 50 per cento di guardia attiva contro tutti gli attacchi che non è da sottovalutare e 50 per cento di difesa aggiuntiva il tunnel in cui si attiva la guardia il nemico che viene attaccato ah no scusate si il nemico che viene attaccato viene silato di base quindi hanno lo sil nell'attacco normale ottimo sono otti in prima posizione ma anche in seconda se avete ginio nello stesso turno invece avrete una guardia al 100 per cento e alte chance di stannare l'avversario quindi 50 per cento ottimi in road giocati come primi in turno con ginio avete guardia sicura stanno sicuro sì no sicuro stanno probabile sì sicuro sono un'ottima unit di contorno davvero davvero completa completa la specialmente anche difesa per un turno e diminuisce di molto anche difesa avversario prendendogli quindi il supporter perfetto per il team anche se purtroppo con l'LR fisica e il genuine no con l'LR fisica esate e altro non è facile che abbiano un posto in turno un'azione fissa a meno che di sacrificare un ottimo ottimo buffer come può essere Gisbarter che a mio avviso non vale assolutamente la pena siano sinceri infesa armi, infesa mino, ginio forza, build down, signature, pose, loyalty, first battle, category, plan messaglia, ginio forza, dragon more seeker, journey forza, terifai, conqueror, special pose, space brave warriors anche per loro la build è abbastanza semplice da immaginare ed è una full critica per massimizzare il danno e all'ability 1 ragazzi non li ho ma ne ho visti e arrivano a degli ottimi valori detto questo, questi sono i due nuovi rare summon della base di ginio sono ottimi rare summon per il team space traveling, per il team plan messaga per tutti quei team che utilizzano il nostro caro capitano ginio e davvero sono più che efficaci sono davvero quelle unit in cui ti puoi affidare per creare un team che in caso di ability alta ragazzi e questa è la cosa assurda riesce a star dietro alla red zone di omega non so quella di broly ma so che hanno completato la red zone di omega con lui con loro, quindi tanta roba perché come ben sapete la red zone di omega è praticamente il secondo evento più difficile del gioco circa quindi tanta tanta roba ability free è un po' più difficile per questo non me l'avete vista provare però se in futuro li porterò almeno ginio ability 1 e loro ability 2 mi verrete il sicuro provarlo tutto questo vi ringrazio noi ci vediamo domani non so con che video ancora è un in bocca al lupo a tutti voi sia global che jap per il pool su mageta io ho 500 ston da parte circa non so se porterò il video il video pool però speriamo bene alla prossima